Questi sono tempi oscuri, non lo si può negare. Quest'anno... Il nostro mondo non ha mai affrontato una minaccia come quella di oggi. L'epilogo di un fenomeno mondiale... Di te che vogliono. ...ha inizio. È ripresto! Non ce la puoi fare! Dobbiamo porre fine a questo. Dal 19 novembre al cinema. Grazie a tutti.